Ad aprire la nostra serata di quest'oggi, questi fantastici ragazzi che meritano davvero un applauso doppio perché hanno avuto il compito e ho avuto il viaggio di stasera, sono i ragazzi di vestiti e di vestiti e di battaglia di Capasso Manzini a tanto maggiore in provincia di Napoli, ci hanno regalato una bella esecuzione con le note di Libertano quindi con l'indimenticabile ricordo di Astorchiazzolla e subito ci regalano un'altra grande emozione anche in questo caso con un ricordo suggestivo legato ad una pellicola davvero indimenticabile arrivano le note del primo indimenticabile Rocky, ancora i ragazzi dell'istituto Capasso Manzini con Gonna Fly Now Grazie 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 Grazie.